Negli anni Sessanta, il celebre film Il Sorpasso mostrava con il gesto delle corna il lato goliardico e un po' volgare degli italiani alla guida. Ma gli automobilisti italiani come reagiscono in caso di insulto e a chi si rivolgono quando sono arrabbiati? La tendenza più comune che emerge dalla ricerca è quella di prendersela direttamente con il conducente. Colpevole. Il 67% del campione afferma infatti di essere direttamente apostrofato con il termini poco civili da parte di vicini di vettura. A seguire gli insulti a prefetti e struttori di scuola guida rei di aver concesso la patente. Non se la passano bene nemmeno mamma e sorelle prese di mira dall'11% dei guidatori arrabbiati. Ma ad un insulto ricevuto come reagiscono gli italiani al volante? Fortunatamente qualcuno si dimostra maturo e paziente. Il 53% afferma infatti di rimanere indifferente e non rispondere alle provocazioni. Purtroppo non tutti gli italiani sono civili e pazienti. Infatti il 47% risponde per le rime o reagisce malamente agli insulti. Tra quelli che reagiscono spicca un 30% di quelli che rispondono insultando e urlando dal finestrino. Più raffinato l'applauso ironico di un altro 30%, ma c'è addirittura un 28% che non conosce proprio l'eleganza e risponde alzando senza problemi il dito medio. Le reazioni più comuni degli automobilisti offesi sono la velocità eccessiva, la guida troppo lenta, il nervosismo alla guida, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza, la distrazione al volante. Il 53% non risponde alle provocazioni, mentre il 47% rivela come sia difficile rimanere impassibili e sceglie di rispondere per le rime. Ciò nonostante è rato pensare che questo malcostume sia in realtà una pratica civile e tollerabile. Non di rado, infatti, l'insulto al volante ha raggiunto le aule dei tribunali e addirittura quelle della Corte di Cassazione. Le reato ascritto dall'insultatore è quello di ingiuria, recentemente depenalizzato come illecito amministrativo, che tuttavia è doni a far scattare una sostanziosa multa a carico del colpevole.